Scoperta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di controllo economico del territorio in vista del Capodanno, l'ennesima attività di commercio di botti pirotecnici illegali. I finanzieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno tratto in arresto da Fragola un 44enne di Napoli, sottoponendo a sequestro oltre 800 kg di botti illegali e altamente pericolosi. In particolare le Fiamme Gialle hanno individuato l'ingente carico di fuochi pirotecnici all'interno di un vivaio, 300 pezzi classificati F2 e con massa attiva pari a 114 kg, detenuti senza licenza e autorizzazione. Localizzato anche un secondo deposito di conducibile al responsabile, all'interno del quale sono stati rinvenuti anche 244 kg di sigarette di contrabbando. Il responsabile è stato tratto in arresto per detenzione e domessa denuncia di materiale esplodente, oltre che per contrabbando e posto ai domiciliari. Anche l'operazione odierna si inquadra nell'ambito del dispositivo di prevenzione e repressione del commercio illecito di prodotti pericolosi, predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.